Siamo in un momento di emergenza dovuta al Covid-19. Anche nell'ospedale di Campo San Piero ci sono molti malati di coronavirus, ma altrettanto ci sono centinaia e centinaia di pazienti che soffrono di altre patologie. Sono cittadini che hanno bisogno di risposte e per questo motivo i servizi di cura e assistenza vanno difesi con forza. La macchina sanitaria non si può fermare.